La tappa successiva fu Taiz, residenza del sovrano e fra le più belle e grandi città dello Yemen. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni Show. Quest'oggi il viaggio di Benemattuta va finalmente in Yemen e la prima città che vediamo è Taiz, una città molto particolare che, come Sfahan, vede le sue origini in un insedimento ebraico nel 130 d.C. Alcuni ebrei vennero qui e fondarono una comunità che, de facto, è il primo nucleo abitativo della città e che rimase fino al 1940, quando poi fu scacciata per tutte le vicissitudini legate alla nascita di Israele. Detto questo, della città non si sa niente in realtà fino al VII secolo d.C., quando uno dei compagni del profeta costruì qui una delle mosche più antiche costruite fuori dallo Yemen. Più avanti si ha effettivamente qualcosa, diciamo, di importante, ovvero il castello di Qahira, che ha lo stesso nome del Cairo appunto, e che rappresenta il primo esempio vero di architettura nel paese. Detto questo, come dicevo prima, non ci saranno sviluppi particolari nella regione salvo fino all'arrivo di Turan Shah. Turan Shah era il fratello di Saladino che arrivò qui e che conquistò di fatto tutto lo Yemen, ponendolo sotto il conto degli Ayubidi, dinastica appunto di Saladino. Questo Turan Shah pose la sua capitale a Taiz e iniziò di fatto ad accentrare lì il potere, soprattutto la mise per la prima volta in una cartina, perché non si conosceva neanche prima l'esistenza. Più avanti arrivarono i Rasulidi, che furono effettivamente il vero momento di gloria di Taiz, nella quale si creò addirittura una disparità così alta fra il nord e il sud, che pose de facto le basi allo scontro che comunque si vede ancora oggi. E tra l'altro fece appunto di questa città di tutto il sud dello Yemen un posto davvero pazzesco. Più avanti abbiamo una brevissima parentesi con i Tahridi e poi arriviamo a un momento molto interessante, perché nel 1498 i portoghesi provarono a conquistare lo Yemen, non ci riuscirono, ma questo spaventò i Mammelucchi, che erano a quel tempo sovrani d'Egitto, che infatti nel 1516 riuscirono a conquistare lo Yemen. Peccato che nel 1516 gli ottomani conquistarono a loro volta i Mammelucchi, creando una situazione politica comunque molto interessante e particolare. Gli ottomani arriveranno comunque a Yemen nel 1538 e lo conquisteranno in breve tempo, anche se non sarà una conquista a duratura, ma verranno scacciati. Prima vi ho parlato della divisione fra nord e sud che c'è ancora oggi, di quella alla fine non parlerò, però ne devo per forza parlare perché gli Zaiditi del nord di fatto scacciarono gli ottomani e posero il loro controllo su tutto lo Yemen. Controllo che durerà di fatto per diversi secoli, anche se con tutta una serie di problemi dovute proprio alla concezione di stato dei Zaiditi, che è comunque molto particolare, molto sui generis. Detto questo, circa nel 1800 gli ottomani riusciranno di nuovo de facto a sottomettere lo Yemen, in realtà con un accordo, e arriveranno anche gli inglesi che conquisteranno Aden, città di cui parleremo venerdì. Più avanti, appunto, questi Zaiditi comunque con la caduta dell'impero ottomano riusciranno a riprendersi il potere e avvieranno una politica di forte isolamento in maniera tale da resistere, diciamo, alle pressioni esterne. Pressioni esterne che però nasceranno con gli Al Saud, i futuri fondatori dell'Arabia Saudita, che gli conquisteranno anche tutta una serie di territori e che porranno davvero tutta una serie di problemi alla loro autonomia de facto. Il fatto importante invece avvenuto più o meno nei giorni nostri è il cambio di potere. Sostanzialmente il secondo sovrano di questo New Deal dei Zaiditi si chiamava Ahmed ibn Yahya e pur riuscendo lui a sventare un colpo di stato nel 1955, nulla poteva da morto e quindi nel 1962 ci fu un colpo di stato che provocherà una situazione molto particolare a Yemen e portando alla prima divisione fra nord e sud, diciamo, importante. Ce ne fu anche un'altra ma ve ne parlerò meglio quando parlerò di Aden. Detto questo, salto tutta la parte proprio contemporanea per davvero e arrivo fino al 1990, anno in cui lo Yemen del nord finalmente si ruini a quello del sud. Purtroppo sappiamo che questa unione non è stata definitiva e infatti ancora oggi ci sono dei problemi. Spero ovviamente che la situazione si risolva, auguro a tutti gli Yemeniti che stanno ascoltando e anche a coloro che non lo stanno facendo di sistemare in fretta questa situazione che è appunto molto triste, molto brutta. Detto questo vi saluto, noi ci vediamo mercoledì con un video invece dedicato a Sana'a. La capitale storica dello Yemen è uno dei posti più rappresentativi in assoluto. Alla prossima! Ah, e seguite come sempre sul gruppo Telegram in particolare perché lì carico qualsiasi contenuto io faccia, quindi se volete essere sempre aggiornati e avere anche le cose appena escono proprio fresche fresche, lì è il posto, ma anche Facebook e Instagram comunque. Ma Telegram meglio! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!